Qui ho le vostre lettere di licenziamento. Bravo, bravo! Questo è il cubano, questo è il sogno di tutte le donne italiane, lo capisci? E poi chiedigli un po' perché lo chiamano cabaglio. Ma sicuramente non perché corre al baglio di Siena. La passa, la passa, la passa, la passa, la passa, la passa! Speriamo che le donne siano più clementi nei nostri confronti. Che vuol dire? Vuol dire che se sabato sera parleranno di noi come noi parliamo di loro, chissà cosa... Se questa per esempio ha le tette troppo grosse, non oso immaginare cosa possono dire dei miei addominali. Oh no, che strazio non è possibile, c'era piccolo proprio così! Cosa ci faccio qui? Ma che cosa ci faccio qui? Cosa ci faccio qui? Ma che mica ci faccio qui? Cosa ci faccio qui? Oh mamma mia! Ora puoi, ora puoi scatenarti se lo vuoi, se lo vuoi, se lo vuoi, lo farai! Ora puoi, ora puoi liberarti se lo vuoi, e faremo fuochi d'artificio! Ora puoi, ora puoi scatenarti se lo vuoi, se lo vuoi, se lo vuoi, vieni a noi! Ora puoi, ora puoi liberarti se lo vuoi, se lo vuoi!